Elam Ondre, Tutto e Uno Nell'istante in cui ti svegli, saprai che svegliarsi è meglio di questo sogno. Questo piccolo ma straordinario libro è stato scritto nel XIX secolo ed è stato tradotto dal Tamil all'inglese. L'autore è sconosciuto ed è stato reso popolare dal saggio Ramana Maharshi che spesso l'ha chiamato insieme a pochi altri ai discepoli che erano alla ricerca della saggezza. Questo libro altamente saturo di insegnamenti di saggezza nomina il metodo più efficace per raggiungere la realizzazione, ovvero illuminazione, moksha o liberazione. Il Maharshi ha particolarmente enfatizzato il libro a coloro che hanno avuto difficoltà a conciliare il concetto di più dèi, come nella religione hindù, con il concetto Advaita di unico creatore universale. Questo libro spiega come non vi sia alcun conflitto di base tra questi punti di vista. In un'altra occasione, quando ho chiesto a Bhagavan di scegliere del materiale da leggere per me, mi ha dato una breve lista di sei libri. Ha posto un'enfasi particolare su Elam Ondre, dicendomi Un devoto francese che non sapeva parlare inglese e che viveva nel Ramana Sramam, durante la mia ultima visita mi chiese di andare con lui all'Anamalai Ashram. Per una visita riguardante alcune sue questioni personali, mentre ero lì, e traducevo per questo devoto, notai in vendita il libro di Anamalai Swami, Living by the Word of Bhagavan. L'acquistai subito, e durante la sua lettura trovai riferimento a tutte e uno Elam Ondre. In qualche modo mi appassionai al saperne di più, e chiesi se era disponibile una traduzione in inglese di questo libro in Tamil. Ma nonostante sia stato anche raccomandato da Sri Bhagavan in Day by Day with Bhagavan, nessuno seppe darmi alcune informazioni al riguardo. Quattro o cinque giorni prima della mia partenza, qualcosa me lo fece ricordare, e pensai che probabilmente nell'Ashram di Anamalai avrei potuto trovare alcune informazioni sul libro. Il direttore dell'Ashram mi disse che era disponibile solo in Tamil, e che l'ultima traduzione inglese era stata stampata privatamente prima del 1950. Tuttavia aveva una copia fotografica di quella traduzione e mi permise di copiarla. Più o meno nello stesso periodo, un devoto francese col quale aveva avuto precedenti discussioni sul libro venne da me e mi mostrò la traduzione francese. Nonostante fosse stato stampato a Pont du Chery, egli l'aveva acquistato a Parigi. Ora te lo mando, perché penso che dovremmo fare uno sforzo per farlo pubblicare a beneficio dei devoti e degli studenti dell'Advaita, anche se nella forma di un piccolo opuscolo economico. La composizione anonima era molto apprezzata da Sri Ramana Maharshi, e per questo sono sicuro che in molti saranno interessati a studiarlo. Una lettera di Eurico Saraiva, Lisbona, Portogallo Prefazione Gli uomini corteggiano la felicità ed evitano la miseria. È lo stesso anche con altri esseri. Questo vale per la corsa comune dell'umanità. Ma l'ordine superiore è piegato alla giusta condotta, sopportando pazientemente il bene o il male che può portare. L'amicizia con questi sarà duratura, mentre l'amicizia con la gente comune non lo sarà. Il bene risulterà al mondo attraverso l'amicizia solo con l'ordine superiore. Sorge quindi la domanda Che cosa è giusto? Il punto è importante, ma la risposta non è stata trovata. Perché ciò che è giusto è determinato dalle circostanze. Per quanto esauriente possa essere scritta un'opera sull'argomento, ci saranno sempre circostanze non previste dall'autore. Diventa quindi necessario rendersi conto di quello stato che ci consentirà di valutare le varie condizioni e determinare ciò che è giusto. Quello stato è uno solo. Non ci sono stati come questo. Sebbene sia l'unico, è straordinario che i saggi mondani lo considerano estremamente raro. Niente può essere più straordinario di questo. Questo stato unico è insegnato molto chiaramente nell'Eupanishad. In questo libro ho messo per iscritto la stessa verità secondo la mia comprensione. L'ho considerato mio dovere. Non rivendico l'originalità. I sei capitoli di questo libro sono così strettamente correlati che un punto che ci si può aspettare in un capitolo può essere trovato in un altro e alcuni punti, che potrebbero non essere chiari a una lettura superficiale, diventeranno chiari con uno studio più attento. Altre versioni o punti di vista diversi possono essere raccolte dalle opere principali o dai saggi. Madre universale, vero maestro, salvaci. L'autore Capitolo 1 Unità Punto 1 Tutto, compreso il mondo visto da te e te stesso, il veggente del mondo, è uno solo. Punto 2 Tutto quel che consideri come io, tu, egli, ella, esso, è solo uno. Punto 3 Ciò che consideri esseri senzienti e ciò che consideri insensibile, come la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua, sono tutt'uno. Punto 4 Il bene che deriva dal considerare tutto come uno, non può essere ottenuto considerandolo separato dall'altro. Quindi, tutto è uno. Punto 5 La conoscenza dell'unità di tutti è un bene per te e anche per gli altri. Quindi, tutto è uno. Punto 6 Quindi, colui che vede io sono separato, tu sei separato, lui è separato, e così via, agisce in un modo verso se stesso e in un altro verso gli altri. Non può fare a meno di farlo. Il pensiero, io sono separato, gli altri sono separati, è il seme da cui cresce l'albero delle diverse azioni, in relazione alle diverse persone. Come può esserci qualche errore di rettitudine per una persona che conosce l'unità di se stessa con gli altri. Finché esiste il germe della differenziazione, l'albero delle diverse azioni fiorirà, anche inconsapevolmente. Quindi rinuncia alla differenziazione. Tutto è uno solo. Punto 7 Chiedi Se nel mondo tutte le cose sembrano diverse, come posso considerarle tutte come una? C'è un modo per acquisire questa conoscenza? La risposta è Nello stesso albero vediamo foglie, fiori, bacche e rami, diversi tra loro, eppure sono tutti uno, perché sono tutti compresi nella parola albero. La loro radice è la stessa, la loro linfa è la stessa. Allo stesso modo, tutte le cose, tutti i corpi, tutti gli organismi, provengono dalla stessa fonte e sono attivati da un unico principio vitale. Quindi, tutto è uno. Punto 8 E gli altri, essere se stesso? Dimmi se c'è una miglior cosa dell'ottenere la conoscenza dell'unità. Certamente altri metodi non possono essere buoni come questo. Come si può amare gli altri più di quando li si conosce come essere se stesso? Li si conosce in un'amorosa unità, essendo essi veramente uno. Punto 9 Chi può turbare la pace mentale e la freschezza del conoscitore dell'unità? Egli non ha doveri. Il bene di tutti è il suo proprio bene. Una madre considera il benessere dei suoi figli essere il proprio benessere, ma il suo amore non è perfetto, perché ella pensa sia separata da loro e i suoi bambini siano separati da essa. L'amore di un saggio, che ha realizzato l'unità di tutto, eccelle più di quello di una madre. Non c'è nessun altro mezzo per realizzare un tale amore, se non la conoscenza dell'unità. Perciò, tutto è uno. Punto 10 Conosci che il mondo, come un tutto, è il tuo incorruttibile corpo e che tu sei la vita eterna dell'intero mondo. Dimmi se c'è un male nel fare così. Chi teme di percorrere la via dell'innoquità? Sii coraggioso. Iveda insegnano questa autentica verità. Non c'è nulla oltre te stesso. Tutto il bene sarà tuo. Di più, diventerai il bene stesso. Tutto quello che gli altri avranno da te sarà solo bene. Chi fa male al proprio corpo e all'anima? Un rimedio si applica se c'è un ascesso nel corpo. Anche se il rimedio è penoso, fa solo il bene. Tali saranno alcune delle tue azioni. Esse saranno per il bene del mondo. Per questa ragione, non voler essere coinvolto nella differenziazione. Per dirla brevemente, il conoscitore dell'unità dovrebbe agire come uno. Di fatto, la conoscenza dell'unità lo fa agire ed egli non può più sbagliare. Nel mondo, egli è Dio fatto visibile. Tutto è uno. Capitolo 2 Tu Punto 1 Chi sei? Sei questo corpo? Se è così, perché non ti accorgi che un serpente vi striscia sopra quando sei nel sonno profondo? Allora, puoi essere questo corpo? No, certamente no. Devi essere diverso da questo corpo. Punto 2 A volte nel sonno sogni. Lì ti identifichi con qualcuno. Puoi essere quello? Non puoi esserlo. Altrimenti, che ne sarà di quell'individuo al tuo risveglio? Non sei Lui. Inoltre, ti vergogni di esserti identificato con Lui. Chiaramente, non sei quella persona in particolare. Tu sei quello che si distingue da Lui. Punto 3 Ricorda lo stato di sonno senza sogni. Qual è il tuo stato allora? Può essere questa la tua vera natura? Sicuramente non adererai a questa convinzione. Perché? Perché non sei così sciocco da identificarti con la massiccia oscurità che ti impedisce di conoscere lo stato in cui ti trovi. Distinto dall'intelletto, dalle cose intorno, come puoi ammettere che sei uguale all'ignoranza o al vuoto? Oppure, come può essere veramente la tua vera natura? Non può essere. Sei il conoscitore che sa che questo stato rimane uno stato di densa oscurità che vela la tua vera natura. Come puoi essere ciò che hai sperimentato e condannato? Quindi non sei l'oscura ignoranza del sonno profondo. Anche tu ti distingui da questo. Punto 4 Quando si dice che anche questo corpo grossolano non sei tu puoi essere un'altra cosa che è ancora più lontana da te. Allo stesso modo in cui non sei questo corpo grossolano non sei nulla di più lontano dal corpo né la persona del sogno né l'ignoranza del sonno profondo. Sei distinto da questi tre stati e da questo mondo. Punto 5 Questi tre stati possono essere ridotti a due sole condizioni quella del soggetto e dell'oggetto e l'altra l'inconsapevolezza del soggetto stesso. Il primo include gli stati di veglia e di sogno mentre il secondo rappresenta il sonno profondo. Tutte le tue esperienze sono comprese solo in queste due condizioni. Entrambi ti sono estrane la tua vera natura rimane distinta da loro. Punto 6 Se chiedi cosa sia si chiama Turia che significa il quarto stato. Perché viene utilizzato questo nome? Questo nome è accorretto perché sembra che i trastati della tua esperienza veglia, sogno e sonno profondo ti siano estrani e il tuo vero stato è il quarto che è diverso da questi tre. Se i tre stati veglia, sogno e sonno profondo dovessero essere presi per formare un lungo sogno il quarto stato rappresenta la veglia da questo sogno. Quindi è più ritirato del sonno profondo e anche più sveglio dello stato di veglia. Punto 7 Quindi il tuo vero stato è il quarto da cui si distinguono gli stati di veglia, sogno e sonno profondo. Tu sei solo quello. Cos'è questo quarto stato? È conoscenza che non particolarizza nulla ma non è inconsapevole di se stessa. Ciò significa che il quarto stato è la pura conoscenza che non è conscio di alcun oggetto ma non è inconscio stesso. Solo lui che l'ha capito anche per un istante ha realizzato la verità. Tu sei solo quello. Punto 8 Cosa c'è di più per colui che ha ottenuto il quarto stato? In pratica non è possibile per nessuno rimanere per sempre in quello stato ovvero lo stato di nessuna conoscenza particolare. Colui che ha realizzato il quarto stato più tardi si risveglia in questo mondo ma per lui questo mondo non è come prima. Vede che ciò che ha realizzato come quarto stato risplende in tutto questo. Non immaginerà questo mondo come distinto da quella pura conoscenza. Così quello che vedeva dentro ora lo vede all'esterno in una forma diversa. Al posto della differenzazione del passato ora è stabilito ovunque nello stato di non differenziazione. Ora è tutto. Non c'è niente di distinto da se stesso. Che i suoi occhi siano chiusi o aperti per quanto le cose possano cambiare il suo stato rimane mutato. Questo è lo stato del Brahman. Questo è lo stato eterno naturale. Sei quello stato sempre vero. Punto nove. Non c'è niente oltre questo stato. Le parole interno ed esterno non hanno alcun significato per lui. Tutto è uno. Il suo corpo la sua parola e la sua mente non possono funzionare egoisticamente. Il loro lavoro sarà la grazia per il bene di tutti. Il frammentario io è perduto per sempre. Il suo ego non potrà mai rinascere. Quindi si dice che sia liberato qui e ora. Non vive perché il suo corpo vive né muore perché il suo corpo muore. È eterno. Non c'è altro che lui. Tu sei lui. Punto dieci. Chi è Dio? Egli è grazia. Cos'è la grazia? Consapevolezza. Senza l'ego frammentario. Come si può sapere che esiste un tale stato solo realizzandolo? I veda lodano chi ha realizzato Dio e si è unito a lui. Quindi il bene più grande che si può ricevere dal mondo e il bene più grande che si può rendergli è realizzare questo stato. In effetti non ci sono stati oltre a questo. Essi appaiono solo nello stato di ignoranza. Per chi lo sa c'è uno stato solo. Tu sei quello. Capitolo 3 Dio 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 è colui che ha trasceso tutto ciò che viene visto da noi. Se è trascendente da questo mondo non c'è relazione tra lui e questo mondo. Nessuna particella qui è strana a lui. Allora cosa si intende per trascendere il mondo? Il mondo comprende noi e gli oggetti da noi visti. In altre parole l'animato e l'inanimato insieme formano il mondo. Cosa diremo di colui che ha creato gli esseri e le cose? Di questi due diciamo che gli esseri coscienti sono superiori. Tutto ciò che possiamo apprendere è che egli appartiene al più alto ordine di esseri a noi noti. Il nostro intelletto non può precedere oltre. Quindi il nostro creatore è superiore a noi. non può essere compreso dal nostro intelletto quindi il suo nome essere trasceso cadavul significa che supera il nostro intelletto quindi il suo nome è cadavul essere trasceso. Punto due non può allora Dio farsi conoscere non è proprio così in un certo senso c'è noto questa parte della sua grazia ci basta e non abbiamo bisogno di tutta la sua grandezza ha fatto conoscere così tanto della sua grandezza quanto basta per sradicare la nostra miseria non c'è motivo per lui di rivelare un briciolo del suo potere in più di quanto sia necessario per rimediare i nostri difetti nello stato attuale così ci ha conosciuto secondo i nostri bisogni no è nelle nostre mani per quanto illimitato è alla portata della nostra conoscenza in una certa misura punto tre cos'è che lo rende alla portata della nostra conoscenza che ha conosciuto come essere coscienza beatitudine sat cit ananda essere denota ciò che è imperituro ciò che esiste per sempre dovrebbe diventare inesistente in qualsiasi momento chi è il suo distruttore e chi lo ha creato poiché la natura deperibile di tutti porta a dedurre che sono dominati da uno che è imperituro questo immortale signore supremo è dio la sua natura imperitura è l'essere sat ora cos'è la coscienza cit per coscienza intendiamo conoscenza conoscenza assoluta e non come la nostra conoscenza intellettuale errata irregolarità o errori non possono macchiare le sue azioni è conoscenza pura e semplice spesso ci insegna dicendo la tua conoscenza è irregolare ed errata e come sono ordinati anche gli oggetti insensibili della sua creazione è noto a molti come un ateo abbia ricevuto una buona lezione quando derideva lo schema delle cose dicendo perché hai fatto il seme così piccolo per l'albero di banano che è così grande il fatto che una cosa insensibile si trovi in buon ordine e in seguito diventi utile implica un agente cosciente al lavoro ora può una cosa semplice e insensibile fare qualcosa che è possibile solo per una conoscenza infallibile oppure può essere fatto dalla nostra conoscenza inadeguata no non potrà mai essere e allora cos'è la beatitudine è lo stato di essere liberi dal desiderio di qualsiasi cosa è la pace che è sempre piena se se desiderasse qualcosa come potrebbe essere migliore di noi stessi come possiamo ottenere la beatitudine da lui egli stesso avrebbe bisogno di un altro essere per soddisfare i suoi desideri ma chi penserebbe che sia così lo stato di autocompiacimento è anche quello della beatitudine perciò è chiamato beatitudine ananda i tre essere coscienza e beatitudine sono inseparabili altrimenti diventerebbero nulla individualmente quindi è conosciuto come essere coscienza beatitudine sat cit ananda così di Dio rimane non solo trascendente ma rientra anche nella portata della nostra conoscenza come essere coscienza beatitudine punto 4 colui che ha ottenuto il quarto stato e vede tutto come uno solo lui conosce veramente Dio come essere coscienza e beatitudine le parole non possono esprimere né le orecchie sentono come un tale essere è unito a Dio è una questione di realizzazione ma ci sono modi e mezzi per tale realizzazione si può parlare apprendere e agire di conseguenza punto 5 colui che può essere realizzato in questo modo è Dio non ha nome gli diamo un nome non ha forma gli diamo una forma dov'è il danno nel farlo quale nome non è suo o quale forma non è sua dov'è il suono o la forma in cui non è pertanto in assenza di una vera conoscenza di lui puoi nominarlo come preferisci o immaginarlo in qualsiasi forma per ricordarlo la tua speranza per la sua grazia senza alcuno sforzo da parte tua è completamente inutile se fosse possibile avere la sua grazia senza alcuno sforzo dalla tua parte tutto sarebbe uguale non ci sarebbe motivo per alcuna differenza ci ha mostrato modi e mezzi sforzati raggiungi l'obiettivo sii felice la tua pigrizia ed egoismo ti fanno aspettare la sua grazia senza il tuo sforzo la regola per tutti è anche per te non rilassare i tuoi sforzi Dio può essere realizzato solo con il tuo sforzo punto 6 c'è uno sforzo che supera tutti gli altri ciò tuttavia può sembrare meno efficace della devozione a Dio con nome e forma tuttavia questo è il più efficiente è semplicemente l'amore che stende a tutti gli esseri buoni o cattivi che siano in assenza di un tale amore per tutti la tua devozione a Dio equivale a una semplice parodia a cosa ti servi di Dio il fatto che cerchi l'adempimento dei tuoi desideri da Dio senza fare il tuo dovere verso i bisognosi nel mondo deve essere attribuito al tuo egoismo alla presenza di Dio non serve a niente le operazioni che hanno luogo alla sua presenza sono tutte altruiste quindi pensa che tutti i centri sono suoi ed è in tutti i centri e quindi sii devoto a Lui Dio è veramente vincolato da una devozione così alta punto 7 mentre continui ad attribuire nomi e forme a Dio e a mostrare amore a tutti perché hai compreso che tutti i nomi e le forme sono suoi la tua mente maturerà gradualmente come il gusto migliora con la maturazione di un frutto così anche tu riconoscerai in te l'aumento del bene e il declino del male man mano che la tua mente matura arriverà il momento in cui dovresti incontrare il tuo maestro questo non vuol dire che tu vada a cercarlo o che Lui venga a cercarti ma al momento giusto avverà l'incontro tutti si stanno muovendo a modo loro la tua forma fisica ti unisce ti fa fidare di Lui ti fa insegnare nel modo giusto ti fa anche seguire le sue istruzioni questa è la via dritta per raggiungere Dio che è ottenere il quarto stato seguirai la via e raggiungerai il tuo obiettivo che è essere coscienza beatitudine che è Dio punto 8 la via indicata dal maestro è definitiva diritta e diretta all'unità è ben provato naturale e privo di dolore quando segui la via mostrata dal maestro i dubbi non sorgeranno e non ci sarà paura la paura e il dubbio non sono forse le caratteristiche delle vie dell'oscurità come possono incontrarti nella via della verità mostrata dal maestro in questo modo il modo stesso ti parlerà e dirà che è quello giusto in questo modo non avrai altro da fare che incontrare il tuo maestro e imparare da lui in questo modo ti sarà familiare poiché il maestro e Dio l'hanno reso così prima di te aveva calcolato la strada ti ha mostrato la via e tu lo stai seguendo a quanti la mostrerai allo stesso modo e quanti altri seguiranno nello stesso modo in seguito ovviamente paura e dubbio non hanno posto sulla via della verità quando hai fatto un passo avanti tornerai indietro e l'aiuto del maestro è solo per il primo passo in avanti non devi fare nulla per il tuo maestro perché lui possa farti vedere la via sappi che è il messaggero di Dio inviato per rivelare la via a coloro che sono diventati maturi grazie ai loro sforzi in una o entrambe le direzioni menzionate in precedenza è Dio che manda questo pio messaggero proprio quando sei maturo punto 9 la pratica con fede nel periodo dell'ignoranza è chiamata bhakti sentiero della devozione lo stesso con la conoscenza è chiamato janana il sentiero della saggezza delle due divisioni della bhakti una è la devozione a Dio con nome e forma e l'altra è il karma che è amore per tutti delle due divisioni di janana la pratica della vera via mostrata dal maestro è chiamata yoga e lo stato risultante è chiamato janana conoscenza è naturale per tutti credere in qualcosa che non si vede e poi trovarlo ma chi non crede non potrà mai trovare pertanto i credenti guadagneranno qualcosa prima o poi e i miscredenti non guadagneranno mai nulla puoi credere anche per il semplice motivo che la fede in Dio non è dannosa e in questo modo puoi condividere i buoni effetti questo mondo è pensato solo per creare fede in te è questo lo scopo della creazione punto 10 sebbene tu possa non credere a tutto ciò che viene detto di Dio credi almeno Dio c'è questo seme è molto potente nella sua crescita è così potente da negare tutto il resto e riempire tutto da solo ed è così onipotente che non vedrai nulla oltre a Dio nemmeno te stesso in verità Dio è tutto capitolo 4 pace punto 1 cos'è la pace sebbene il mondo persista quando un uomo è in un sonno profondo ha qualche preoccupazione a riguardo la sua mente è tranquilla e riposata se la sua mente è allo stesso grado calma e rinfrescata anche quando è a faccia a faccia con il mondo e vi è attivo allora c'è pace punto 2 può la mente rimanere tale anche quando il mondo ci mette di fronte dipende dalla nostra stima del mondo la mente è più eccitata quando la propria proprietà viene saccheggiata rispetto a quando la proprietà di un altro viene saccheggiata in modo simile delle proprie cose la perdita di una cosa causa maggiore preoccupazione di quelle di un'altra perché perché la nostra stima delle cose è la causa del grado di gioia o ansia che le riguardano pertanto se si impara a considerare tutti allo stesso modo la mente sarà estremamente pacifica o se tutte le cose dovessero essere considerate nostre e altamente apprezzate allora non c'è motivo di dolore perché di cosa si pentirà un uomo la mente che sa che l'interesse universale al di là delle sue capacità deve diventare tranquilla anche quando si sente che non si ha diritto a nulla o che tutto è deperibile la mente rimarrà calma così ci sarà una pace duratura se si considerano tutti dello stesso valore la pace dipende dalle proprie valutazioni intellettuali punto 3 lo illustrerò ora un uomo si sveglia da un sogno la sua mente è felice o turbata secondo la sua opinione sulle cose viste nel sogno ma al risveglio la sua mente rimane inalterata da tutti gli avvenimenti del sogno lui rimane lo stesso perché perché solo ora la sua mente ha imparato a valutare allo stesso modo tutte le questioni del sogno non è dispiaciuto per la cessazione del sogno perché è convinto che il sogno non sia eterno e debba finire al risveglio allo stesso modo se un uomo dovesse essere convinto di non poter fare a meno di svegliarsi qualche volta dal lungo sogno del mondo la sua mente rimarrà imutabile è lo stato di freschezza questo è lo stato di pace punto 4 questo non vuol dire che la sua relazione con il mondo cesserà ora solo la pace e la freschezza della mente sono sue le sue azioni non possono che variare a seconda delle circostanze l'unico cambiamento in lui dopo che la mente è diventata pacifica è questo la sua mente ha conosciuto la verità e si è distaccata quindi riposa in pace le sue azioni sebbene mutevoli saranno sempre imparziali ma le azioni degli altri stanno cambiando e non possono essere imparziali così la freddezza della mente produce un enorme bene non solo a se stesso ma anche al mondo in generale la pace mostra la via per una condotta retta punto 5 un uomo cammina con una lampada accesa in mano può esserci ostilità tra la luce e gli alti e bassi in arrivo non ci può essere ma la luce e l'oscurità non possono stare insieme la luce scaccia l'oscurità svela gli alti e bassi sulla strada e fa camminare l'uomo con cautela sia che si muova su giù o di lato rimuove la causa di vani e lamentele come quell'intrico mi ha fatto male al piede o questa cavità mi ha fatto scivolare allo stesso modo dopo che la pace è stata raggiunta lo stato di pace fa sì che l'uomo non odi né si antagonizzi il mondo piuttosto dissipa l'oscurità che nasconde alla nostra vista la vera natura del mondo e le sue difficoltà in assenza della luce della pace che consente alle persone di adattarsi alle diverse circostanze condannano il mondo come pieno di miseria come degli ostacoli sulla strada pertanto un uomo che ha ottenuto la massima pace dopo aver conosciuto il mondo intero come un sogno complicato non dovrebbe essere considerato né estraneo al mondo né indifferente alle sue attività lui solo è in effettiva concordia con esso solo lui è competente per essere un uomo d'azione quindi la pace è ciò che regola i propri doveri punto 6 la preoccupazione di un uomo di pace nelle azioni del mondo sta nel correggerle dovrebbe provare paura davanti a questo mondo quale speranza di riforma può esserci specialmente da parte di coloro che lo stimano e vogliono possederlo sono in preda all'egoismo ciechi all'imparzialità per guidare i ciechi sulla strada o curare la ciecità degli occhi la vista di per sé deve essere buona allo stesso modo spetta a lui che ha già il discernimento della sua natura immutabile rispetto alla natura mutevole del mondo riformare il mondo e diventare pacifico questi non possono fare a meno di servire il mondo perché può qualcuno essere così duro di cuore da non sollevare un bambino quando scivola e cade così anche per i saggi che possono valutare giustamente i problemi del mondo e aiutare le persone poiché si è già ritirato dalla mente dal corpo il saggio non prova alcuna preoccupazione sotto la tensione del servizio al mondo così come il principio vitale non soffre anche quando i carichi passano sul cadavere che ha lasciato da solo non si tirerà indietro dal lavoro o dai guai solo la pace veramente realizzata può conferire tale coraggio e tale freddezza punto 7 a tutte le apparenze la pace sembrerà povera e piuttosto debole ma in effetti batte tutto in tenace e coraggio supera tutti dopo tutto il successo dipende da queste qualità anche se il monte meru dovesse ribaltarsi l'incidente difficilmente produrrà un sorriso gentile nell'uomo di pace o lo lascerà indifferente questo stato è utile sia per le questioni mondane che per quelle spirituali la vera felicità nel mondo è sua e quella felicità deriva dalla liberazione e dalla schiavitù pace significa fare del bene a chiunque in qualsiasi modo punto 8 gli ostacoli alla pace sono diversi hanno lo scopo di dimostrare l'uomo quando ci affrontano dovremo essere completamente svegli e mantenere il delicato fiore della mente lontano anche dalle loro ombre se il fiore della mente viene schiacciato perderà la sua fragranza freschezza e colore non vi sarà né utile né potrà essere presentato ad altri né offerto a Dio sappi che la tua mente è più delicata persino di un fiore per mezzo di una mente pacifica tutti i tuoi doveri verso te stesso verso gli altri e verso Dio devono essere adempiuti lascia che rilasci la stessa freschezza dappertutto tutte le benedizioni per la mente sono contenute nella pace punto 9 adorate incessantemente il Dio del vostro sé con il fiore della vostra mente lascia che i figli dei modi mentali osservino questa adorazione a poco a poco impareranno a gettare via i loro scherzi infantili e il desiderio di deliziarsi come te mentre guardano la tua pace si ritrarranno dai loro capricci continua pazientemente l'adorazione non lasciarti trascinare dai capricci della mente al contrario dovrebbero diventare pacifici con la tua pace tutti devono trovare la pace punto 10 concluderò con una parola l'essenza di tutti i Veda è pace capitolo 5 azione punto 1 ogni azione ha di Dio il suo potere ha fissato ogni cosa nella sua funzione individuale con il suo intervento gli oggetti insensibili e gli esseri senzienti fanno il loro lavoro tutte le azioni sono sue punto 2 tutti stanno facendo il loro rispettivo lavoro allora cosa c'entra Dio con questo considereremo prima gli esseri senzienti e in seguito gli oggetti insensibili siamo esseri senzienti vediamo prima di tutto di chi sono le nostre azioni tutti desideriamo uno stato superiore e lavoriamo per questo ma i nostri risultati non sono uniformi a volte l'obiettivo è lo stesso e lo è anche il lavoro ma perché c'è una differenza nei risultati qui Dio ci fa capire che l'azione è sua altrimenti tutti devono essere uguali la differenza nelle condizioni non può essere considerata può esserci qualcuno che non desideri migliorare la sua posizione qualunque sia la loro intenzione verso gli altri la loro intenzione verso se stessi è sicuramente onesta le condizioni delle persone con la stessa intenzione sono tuttavia diverse questo perché tutte le azioni sono da Dio punto 3 tutti gli esseri hanno la stessa intenzione tuttavia i loro sforzi sono di diverso grado così anche i loro stati dopo aver detto questo sorge la domanda cos'è lo sforzo non è semplicemente un'immagine mentale tutte queste immagini hanno la stessa origine cioè l'intenzione comune di tutti perché allora l'immagine dello sforzo dovrebbe differire in ciascuna anche qui Dio ci fa vedere che tutte le azioni sono sue punto 4 se si dice che nonostante la stessa intenzione lo sforzo può variare a seconda delle capacità individuali sorge la domanda qual è l'origine di questa capacità è del corpo e della mente anche l'ambiente può influenzarlo bisogna tener conto di tutti i fattori prima di fare uno sforzo tuttavia questi fattori non sono sotto il proprio controllo quindi lo sforzo potrebbe non essere all'altezza del compito e quindi tutte le azioni sono di Dio punto 5 di nuovo se si dice che il corpo la mente e l'ambiente saranno gradualmente resi all'altezza del compito ciò implica un'incapacità presente questo per ammettere che tutte le azioni sono di Dio punto 6 ora è bene o male che le persone non raggiungano i loro obiettivi è certamente buono perché la maggior parte di loro è egoista giudica tu stesso se il loro successo è per il bene del mondo o in altro modo potreste chiedere i tentativi degli altruisti non dovrebbero avere del tutto successo sebbene tutti in apparenza possano sembrare altruisti tuttavia non sono esenti da macchie queste dipendono dall'ego se l'altruismo immaginato ha dato origine a un senso di superiorità sugli altri Dio vanifica il loro scopo e insegna loro che anche tu sei come gli altri e io ti governo d'altra parte libero dall'egoismo il libero dall'ego è il rappresentante di Dio all'interno del quale la nuvola dell'ego che nasconde Dio non esiste e dalla quale Dio splende sempre a un tale con scopo veritiero Satva Sankalpa tutte le sue intenzioni si avverano Dio risplende direttamente in Lui non c'è oscurità in Lui solo Lui conosce lo scopo divino così com'è attraverso di Lui Dio adempie lo scopo della sua creazione tutte le azioni sono di Dio punto 7 se viene chiesto non c'è una sola persona di sincero intento e perché il mondo non dovrebbe avere tutte le benedizioni in pieno la risposta che è un segreto è che i saggi che sono consapevoli che tutte le azioni sono di Dio desiderano farlo conoscere anche agli altri non c'è bene più grande che sapere che tutte le azioni sono di Dio e non nostre questa conoscenza contiene tutte le benedizioni in sé pertanto l'intenzione dei saggi è di istruire chiaramente gli altri nella conoscenza di Dio e delle sue azioni anche così non dicono conosci Dio in questo preciso istante ma insegnano i modi e i mezzi per la conoscenza e ci incoraggiano a condurre una condotta corretta solo questo non dicono sii immediatamente emancipato perché? perché questo non è possibile per la gente comune né i saggi dicono a Dio libera subito il popolo perché i saggi sono liberi dall'ego e pensano Dio sa cosa dovrebbe fare quando farlo cosa posso dirgli? quindi desiderano solo fare il loro lavoro senza alcun interesse per i frutti che questo lavoro può produrre hanno saputo che solo Dio dispensa i frutti delle azioni semplicemente guardano il corso degli eventi nel mondo e fanno il loro lavoro senza mai pensare di creare un mondo tutto loro perché? perché farlo è una forma di egoismo la creazione è come dovrebbe essere è tutto in ordine tutte le azioni sono di Dio punto 8 sapendo che le loro azioni sono sottomesse al potere superiore come potrebbero sperare di ottenere qualcosa di caro ai loro cuori? no non possono faranno il loro lavoro semplicemente come un dovere le scritture dicono lavora ma non pensare ai suoi frutti proprio come la rabbia inconsciamente vince un uomo anche se è determinato a non arrabbiarsi così anche i saggi del vero intento Satva Sankalpa possono essere scioccati dalle iniquità del mondo e pensare inconsapevolmente Dio lascia che sia fatto il bene sia così allora cadrà sicuramente e il bene prevarrà questa è la causa di alcuni eventi straordinari nel mondo questi eventi straordinari sono il risultato di un desiderio che si insinua nella mente di un saggio questa è la legge della natura che può cambiarlo tutte le azioni sono di Dio punto 9 qualunque cosa accada è nell'ordine naturale delle cose inoltre è giusto tutta viene per sua sola volontà in verità non è sbagliato pensare fa rubare il ladro perché? perché al momento della punizione fa soffrire anche il ladro per la rapina quindi non dovrebbe esserci cattiva volontà diretta verso il ladro tale è il frutto della conoscenza che tutte le azioni sono di Dio sebbene non ci sia cattiva volontà nei confronti del ladro c'è un'avversione per il furto questo è anche il risultato della nostra conoscenza che tutte le azioni sono di Dio com'è? perché al ladro stesso non piacciono i furti starebbe zitto se i suoi averi fossero rubati da un altro? non l'avrebbe fatto chi può non sapere che il bene è giusto e il male ha sbagliato pertanto la consapevolezza che tutte le azioni sono di Dio porterà nel mondo un'era di condotta ordinata la nostra conoscenza non si estende oltre possiamo ripetere solo ciò che sappiamo non dobbiamo preoccuparci di ciò che è al di là della nostra conoscenza e anche questa è la volontà di Dio punto 10 uno dei frutti della conoscenza concessaci da Dio è la consapevolezza che tutte le azioni sono di Dio non siamo in grado di chiedergli perché ti comporti in questo modo poiché i frutti delle nostre azioni non sono sempre conformi al nostro desiderio tutte le religioni ammettono stati simili della nostra impotenza in altre parole poiché i nostri poteri sono limitati non possiamo non dire che tutte le azioni sono di Dio la legge che si applica a noi si applica anche agli oggetti insensibili la nostra legge non è migliore della loro tutto è uno anche se alcuni non ammettono che tutte le azioni siano di Dio tuttavia ammettono la propria incapacità e questo stesso è l'atto di Dio capitolo 6 ego punto 1 o ego tutti i mali del mondo vengono da te per schiacciarti i re fanno leggi e i saggi danno lezioni nonostante i loro sforzi da tempo immemorabile ahimè sei ancora vivo ti nascondi e riappari ancora e ancora può non esserci fine per te sì si sta sicuramente avvicinando un altro ego ha iniziato a ucciderti è l'ego universale chiamato io sono Brahman punto 2 o ego non pensare che il tuo nemico sia della tua specie tu sei deperibile mentre lui no sei presuntuoso come io perché ti distingui sempre come io tu e lui ma il tuo nemico è libero da questa presunzione e armonizza tutte le differenze risolve tutto in sé inoltre trovi nemicizia verso di lui perché è assorto per ucciderti ma non ha rancore nei tuoi confronti perché non devi essere trovato alla sua presenza ti considera come una parte delle sue membra la tua perdita nella sua vicinanza è opera della tua stessa falsità non penserebbe di ucciderti perché non sei di nessuna importanza ai suoi occhi quindi ego tu sei il suo nemico ma lui non è il tuo in poche parole tu sei il tuo stesso nemico perché a causa della tua avidità ti sei ostentato davanti al grande come faresti altrove e all'istante ti sei perso perciò il sé universale ti oscura divorandoti e poi risplende come luce di tutto punto 3 o ego i mali delle tue opere non hanno limiti non sei contento a meno che tu non sia esaltato al di sopra degli altri e gli altri siano abbassati prima di te infiniti sono i tuoi desideri come con quale titolo guadagnerò onore in che forma apparirò elegante gli altri si inchinano davanti a me gli altri mi obbediscono in silenzio gli altri dicono che nessuno mi eccelle ahimè quanto è breve la tua vita eppure a quanto aspiri e quanto male fai ti sei illuso che ci sia felicità in tali idee e nel differenziarti da tutti gli altri questo non è per il tuo bene non hanno diritto anche gli altri a tutto questo qual è la tua parte nelle cose che sono comuni a milioni e milioni di altri stando così le cose non desiderare in vano di governare tutto con il tuo vano desiderio porti il male a te stesso e agli altri ascolta il mio consiglio amichevole in verità colui che consideri tuo nemico mortale è tuo amico sa come renderti degno della vera grandezza e delle benedizioni arrenditi a lui questo ego universale non ti tratta come un nemico ma è il tuo più grande benefattore punto 4 in nessun modo puoi scoprire cosa egli farà di te se non ti arrendi a lui per quanto ne parli tu non puoi capire è questione di esperienza senza dubbio egli non farà altro che esaltarti al suo stato pertanto non essere perplesso sul tuo futuro e arrenditi direttamente puoi sempre voltare le spalle se la gioia non ti raggiunge dall'istante in cui ti arrendi proprio come il bere del latte inizia con un gusto gradevole e finisce con la soddisfazione della fame così anche la resa inizia con il piacere e finisce con la beatitudine perfetta che sta al di là anche del piacere e del dolore quindi il tuo obiettivo senza dubbio è questo ego universale io sono brahman punto 5 ma quale sarà il tuo nuovo nome dopo la resa non c'è nessun nome oltre al tuo i veda ti lodano il mondo ti loda l'essenza degli insegnamenti religiosi sei tu stesso allora qual è la tua forma tutte le forme sono tue non c'è forma ma che non sia tua ciò che è installato nei templi di adorazione sei tu ciò che è descritto nei veda sei tu feste e ricorrenze sono tutte per te ora quale può essere il tuo potere alla tua presenza il mondo è attivo e ognuno è quello che è grazie a te detto in breve tutte le cose ti glorificano e testimoniano il tuo essere hanno il dovere di farlo non avresti nemmeno immaginato che questo sarebbe stato il tuo stato e allora inizia subito e non essere presuntuoso l'ego universale ti aspetta punto 6 desideri svegliarti dal tuo sogno o continuare in esso e quanto dureranno le immagini dei tuoi sogni non essere pigro scrollati di dosso il sonno e svegliati stai assistendo alle tue immagini mentali ed immagini sempre di più è tutto inutile scopri solo chi è che vede le visioni e non illuderti di essere queste che sorgono e affondano in te svegliati nell'istante in cui ti sveglierai saprai che svegliarsi è meglio di questo sogno e allora alzati l'ego universale aspetta per gioire nel vederti sveglio punto 7 non temere la cessazione del presente sogno dell'ego una volta sveglio godrai lo stesso ancora di più non sarai più deluso e lo osserverai con allegro distacco non confuso la follia di tutte le apparenze sarà compresa e non avrai alcun peso in sogno il tuo immaginario mentale assume forme al risveglio conosci il sogno solo come sogno non confondere il sogno con lo stato di veglia conosci il sogno come sogno per farlo devi raggiungere lo stato di io sono brahman ego universale e svegliarti dall'illusione dell'ego punto 8 ti ho istruito per il tuo bene e non nel mio interesse se mi credi dovresti agire in base a ciò che ti ho insegnato d'altra parte se non vedi nulla di buono in quello che ho detto allora allontanati da questo ideale come posso aiutarti se i miei consigli e tutti i consigli dei santi non ti fanno impressione nessuno stato è superiore a questo credimi è per il tuo bene che realizzi questa verità e attraverso di te altri possono realizzare lo stesso si libero dalla presunzione inizia subito renditi conto che l'ego universale è tuo punto 9 o ego guarda come sei schiavo di tutti e quindi soffri quanto è pietoso il tuo stato tutti ti sono ostili quando dici solo per me anche tutti gli altri si contenderanno solo per me solo per me quando dici sono fantastico protestano perché anche noi lo siamo tutti ti sono ostili a causa dei problemi causati dagli altri le tue immagini mentale aumenteranno di un milione di volte non dovresti elevarti al di sopra di loro e trarre profitto rendendoti a un maestro allora tutti i tuoi nemici ti faranno amicizia se dici agli altri tutti questi sono tuoi tutti diventano tuoi amici c'è solo uno che può renderti così magnanimo ed è io sono Brahman ego universale punto 10 dirò solo una parola e questo non è dovuto al mio egoismo è semplicemente mio dovere non dico questa parola solo per il tuo o solo per il mio di bene ma è per il bene di tutti la verità è io sono Brahman ego universale